Oggi, sabato santa, è la giornata del silenzio e anche il Duomo e la cattedrale è chiusa in attesa dello scioglimento della famosa Gloria che ci sarà alle ore 12, alle ore 24 di oggi e quindi domani ci sarà la Pasqua di Resurrezione. La piazza è totalmente vuota, in attesa. Ci sono soltanto io e Leonardo Vella e ci sta con me anche Leonardo Vella e quindi una serata diversa da ieri sera, venerdì sanno, con la processione e migliaia di fedeli in piazza per Gesù morto.